Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Spazio su quotidiano Ginedicola Al calciomercato in vista della prossima stagione La Nazione, l'Inter chiama Firenze Nangolani in Viola C'è la formula giusta Il Ninja potrebbe sbarcare in Riva Allarno In prestito con obbligo di riscatto Apertura dell'Inter all'operazione Soprattutto se la Fiorentina mollasse la presa Sull'obiettivo con Bulla Intanto si continua a discutere del futuro di Dalbert L'asse Milano-Firenze è calda anche Per quanto riguarda Federico Chiesa Sogno di mercato di Conte Marotta Oltre che Gaetano Castrovilli Entrambi piacciono anche alla Juventus Ma la Fiorentina vuole trattenere i propri gioielli Patrick Cutrone ha rassicurato tutti In un'intervista a Italian Football TV Sono stato male per qualche giorno Ma ora sto bene Ho avuto paura Ma per fortuna è tutto alle spalle La Fiorentina è una grande squadra Qui sono felice Per fiorentina1.com Beatrice Cansella Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola